Non è importante come colpisci. L'importante è come sai resistere ai colpi. Ora ti dirò una cosa scontata. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori. È davvero un postaccio, misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio. Ti lascia senza niente, per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci. L'importante è come sai resistere ai colpi. Come incassi. E se finisci al tappeto, hai la forza di rialzarti. Così siamo vincenti. E se credi di essere forte, non devi dimostrare che sei forte. Perché l'uomo vince solo se sa resistere. Non andrà tutto bene. Andrà come noi faremo in modo che vada.